che ramarico spisni buongiorno a tutti cari guardate che trionfo di colori è proprio la primavera della spisni è di tutti mio ramarico è penso a quante bucce ho buttato via prima che mi insegnaste come fare ad adoperarle sto pensando che una vagonata di bucce però va bene non si piange sul latte versato come si dice acqua passata non macina più adesso non mi capita più di buttare via le bucce delle fave perché sono stati tutti così gentili alla fine la ricetta è la stessa che hanno dato tutti a chi li ha passati in acqua volente qualche minuto chi li ha fatte direttamente tagliate piccoline con olio aglio e chiaramente un po di sale e pepe quello che ci vuole ecco e viene un contorno tu li puoi mettere come vuoi io ho messo un po di pomodoro ci ho condito anche i maltagliati ma pensa è come se fossero quando la storia le cose quando lo fa ragazzi la becco che ve lo faccio vedere tanto adesso le sbuccia vedrete che da qui a breve voi state lì seguiteci e vedrete che una delle sue astuzie del giovedì negli anni insegnate loro io le ho chiesto loro me l'hanno detto perché il bello di essere tanti è questo che c'è sempre qualcuno che le sa le cose grazie 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 amici cari statemo bene tutti quanti ci vediamo alla prossima puntata ma guarda che belli qua l'ho voluta prendere perché sono proprio belli fa venire fame a guardarla bene ciao spisni ciao a tutti ciao amici ciao a tutti